Sono anche convinto che questa battaglia sia trasversale, che non riguarda neanche più le parti politiche, che in qualche modo in Italia stia accadendo qualcosa di molto pericoloso e complicato, cioè che si sta iniziando a dividere i paesi tra persone per bene, indipendentemente dagli idee e banditi, indipendentemente dalle idee.